Buongiorno a tutti, benvenuti, questa manifestazione la stiamo facendo tramite Scelto Servizi Sardegna e come sapete l'Unione Europea ha dichiarato che l'anno 2011 è l'anno europeo e l'euro stagliato. Questo ha su un grande significato in quanto rivoluzione la dignità di circa 100 milioni di persone che si impegnano quotidianamente nella fruttura della solidarietà e della gratuità. Secondo un'indagine, il 30% degli europei affermano di essere impegnati come volontari. Il CESCevo Sardegna Solidale sta portando avanti una serie di iniziative da svolgersi in tutto l'arco dell'anno, comprendendo tutto il territorio santo, denominato le piazze della solidarietà. Il Presidente del CESCevo Sardegna Solidale, Professor Dio Filippato, con il solidarietà di 我 humble da l'arco che specialmenteus si rischiappe pensare di serafi sia un'invaglia, era ileso, ma'u evoluzione ca un' seconda che questo rischia steva molto e ricorda. Grazie a tutti.